Il voluto, Paolo, che c'è di anche distanza? Ma inizialmente, sicuramente sì, anche perché è stato molto distratto da sciopare, perché è molto più semplice, no? C'è la regola di quadro, la proposta del tempo, così, la posizione di relazione, anche perché è il piore che è massimo, così tanto, o così tutto, ecco, quindi ci sono così, se... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.